Ok, oggi facciamo qualche esercizio sulla parte, la prima parte che abbiamo visto, inerente al campo magnetico e alla forza di Lorenz. Iniziamo ad esempio con un esercizio semplice. Vediamo, vi propongo l'esercizio 5 a pagina 344. Il quale dice, così lo leggo, qual è l'accelerazione di un protone che si muove con una velocità di 6,5 metri al secondo in direzione perpendicolare a un campo magnetico di 1,6 tesla. Quindi qui abbiamo un protone che si muove con una certa velocità, questa è la velocità B. Il campo magnetico lo disegniamo perpendicolarmente al protone, ecco qua per esempio questo, nel campo magnetico B, e quindi la forza prodotta sul protone, forza di Lorenz, F, vale la carica del protone per il prodotto vettoriale tra V e B. Dato che V è perpendicolare a B, allora l'angolo tra i due vettori è pi greco mezzi, o 90 gradi se preferite, quindi il seno di alfa vale 1, per cui possiamo semplicemente scrivere che l'intensità della forza vale carica del protone, velocità per campo magnetico. Il testo ci chiede però qual è l'accelerazione del protone. Per rispondere alla domanda abbiamo bisogno di utilizzare la seconda legge della dinamica, cioè la forza vale la massa della particella, del protone in questo caso, per la sua accelerazione. quindi il prodotto N per A vale quanto la carica per la velocità per il campo. Se l'angolo non fosse di 90 gradi, dovrei aggiungere qui il seno di alfa, quindi chiamiamolo così. Ecco, questa è l'equazione completa, da cui dividendo per la massa abbiamo l'accelerazione. QVB seno alfa fratto la massa del protone. Allora, qui l'esercizio non li dà, ma possiamo facilmente reperire i dati che ci servono. La massa del protone vale 1,672 per 10 alla meno 24, mi ha 27, scusate, chilogrammi. La carica del protone 1,602 per 10 alla meno 19 coulomb. E infine abbiamo che la velocità del protone, questo è un dato del problema, 6.5 metri al secondo, e il campo magnetico B misura 1,6 tesla. A questo punto possiamo procedere al calcolo. Qui ho l'espressione risolutiva e questa e l'equazione di cui siamo partiti è la forza di Lorenz. Allora, ripeto, il valore dell'accelerazione della nostra particella vale quindi questa frazione. Abbiamo la carica, quindi 1,602 per 10 alla meno 19 coulomb. per la velocità, 6,5 metri al secondo. Per ancora il campo magnetico, 1,6 tesla e fratto la massa, 1,672 per 10 alla meno 27 chilogrammi. Allora, come al solito, ci occupiamo per prima cosa dei coefficienti, cioè facciamo 1,602 per 6,5 per 1,6 diviso 1,602, 1,602 per 6,5 per 1,6 diviso 1,672. Io vi consiglio anche a voi di fare questo calcolo e otteniamo no, scusate, ecco, 9,9645 per 10 alla, abbiamo meno 19 e meno 27 denominatore, quindi qui avremo meno 19 più 27 metri al secondo quadrato. quindi 9,9645 per 10 alla, quindi l'accelerazione è di circa 9,96 per 10 alla 8 metri al secondo quadrato. Attenzione, si tratta di un'accelerazione, quindi è metri al secondo quadrato. Ci sono domande? Apparentemente no. Se ci avessero detto, questo lo aggiungo io, se l'angolo fosse stato, che ne so, di 20 gradi tra, quindi qui abbiamo la velocità, forse diretta in questo verso, e questo fosse stato il campo B, questo angolo fosse stato di 20 gradi, allora bisognava moltiplicare il prodotto QB per B per anche se in alfa, quindi la velocità sarebbe stata quella di prima, quindi, l'accelerazione, scusate, stiamo cercando l'accelerazione, l'accelerazione sarebbe stata quella di prima, quindi 9,9645 per 10 alla 8 metri al secondo quadrato per il seno di 20 gradi. E avremmo ottenuto un valore, quindi se il seno di 20 misura, questo vale 0,342 per 9,9645, avremmo ottenuto 3,41 in vice alla 8 metri al secondo quadrato. Se l'angolo fosse stato, ripeto, di 20 gradi anziché di 90. Ok? Se non ci sono domande o obiezioni, passiamo a un altro esercizio. Ah, ovviamente, anche questo va detto, se, aggiungiamolo qua sotto, se, ancora NB nota bene, se la velocità e il campo magnetico fossero stati paralleli, di disegno leggermente scostati, quindi B parallelo a B, l'angolo alfa sarebbe stato 0, e quindi la forza sarebbe stata nulla, e quindi l'accelerazione sarebbe stata nulla. Perché alfa 0 significa senalfa che fa 0, quindi non avrei avuto nessuna forza. Mentre nel nostro caso, fatemi disegnare adesso, immaginate una proiezione in 3D, qui abbiamo i tre assi cartesiani, X, Y e Z. Se la velocità che disegno in verde fosse stata lungo l'asse delle X, il campo magnetico fosse diretto lungo l'asse delle Y, quindi tra i due c'è un angolo di 90 gradi, questo è il nostro protone. La forza, diretta come V, vettor B, quindi metto le dita lungo le velocità, le ruoto verso B, il pollice mi dà il verso della forza, che quindi è diretta come l'asse delle Z. Se questo è un protone, se questo ha una carica positiva, se fosse stato un elettrone, nelle stesse condizioni, la forza sarebbe stata verso il basso. Se invece avessi avuto, ripeto, la stessa V, quindi V sempre lungo l'asse delle Y, V lungo l'asse delle X, ma una carica negativa, qui ho un elettrone, quindi una carica negativa, allora la forza sarebbe stata diretta lungo l'opposto dell'asse delle Z, cioè lungo il verso negativo dell'asse delle Z. Ok? Perché il segno della carica inverte il verso della forza, fatto che F è Q, V, vettor B. V vettor B è sempre lungo l'asse delle Z, ma se la carica è negativa, il verso è invertito. Ok? Molto bene. Detto questo, vi propongo, fatemi tornare sul libro di testo un istante. Che ne dite di? Ops, mi si è chiuso un secondo solo. Vi propongo. Mi si è chiuso il libro, date un secondo di pazienza. Questo mi sembra interessante. Il 18. 18 a pagina 345. Il quale dice, calcola il raggio dell'orbita di un protone che si muove perpendicolarmente a un campo magnetico di 0,66 tesla alla velocità di 6,27 per 10 alla 5 metri al secondo. Quindi qui abbiamo un'orbita circolare. Qui c'è il nostro protone, la cui velocità è diretta in questo senso. Se il moto è circolare, la forza è diretta verso il centro, quindi questa F. E in questo caso abbiamo un campo magnetico in questa regione. Fatemi disegnare in verde. Diretto, sempre rispettando l'arrivo della mano destra, entrante nella pagina. In questo caso, in questa zona, appunto, ci sono... Ecco. Questo. Quando si mette la X, vuol dire che il campo magnetico è entrante. Quindi V vettor B sul protone è diretta verso il centro della traiettoria, che è una circonferenza, che è questo punto qui. Ci chiedono di calcolare il raggio dell'orbita circolare, quindi quanto vale il raggio. Sapendo che la velocità orbitale, quindi quella circolare dell'elettrone, è 6,27 per 10 alla, se leggo bene, 5. mette al secondo, e il campo magnetico B ha un'intensità di 0,66 tesla. Ripetiamo, una volta, la massa del protone, che era... Fatemi recuperare dall'esercizio di prima, 1,672 per 10 alla meno 27 kg, e la carica 1,602 per 10 alla meno 19 Coulomb. Anche in questo caso, ripetiamolo lo stesso, la chiave risultiva del problema è legata al fatto che la forza di Lorenz funge, svolge il ruolo di forza centripeta, quindi la forza di Lorenz, cioè la carica per la velocità per il campo, qui riporto solo l'intensità della forza, che è appunto diretta nel modo in cui ho indicato nella figura prima, vale la forza centripeta, che è massa della particella, per l'accelerazione centripeta, cioè la sua velocità al quadrato, diviso il raggio della traiettoria. Ok, qui possiamo semplificare per la velocità, e ci rimane Q per B, che è uguale a MV diviso R, da cui faccio ricavare R, che vale quindi MV diviso il prodotto QB. Ok, quindi questi sono i passaggi importanti, secondo il principio della dinamica, con la forza di Lorenz e l'espressione del raggio della traiettoria circolare, quindi R vale la massa del protone, 1,672 per 10 alla meno 27 kg, per la velocità, che era 6,27 in 10 alla 5, mette a secondo, fratto il prodotto, carica per campo, quindi 1,602 per 10 alla meno 11 Coulomb, per 0,66 Tesla. Anche qui operiamo come al solito, 1,672 per 6,27 diviso 1,602 e diviso ancora 0,66, che fa 9,92 per 10 alla meno 27, più 5, più 11, che fa, scrivere quindi meno 27, più 5, più 15, solo, che ha, chiedo scusa, ho sbagliato a scrivere, la carica non è meno 10 alla meno 11, ma è a meno 19, ok, adesso torna, meno 27, 5 più 19, 10 alla meno 3 metri, quindi circa 9,9, una decina di centimetri, ok, quindi 9,92 centimetri, ok, è chiaro che se avesse avuto una particella più massiccia, quindi se M fosse più grande, il raggio sarebbe aumentato in proporzione, se la particella è più veloce, il raggio diventa più grande, se il campo è più intenso, invece il raggio è più largo, è più stretto, scusate, il campo intenso, la circonferenza è più stretta, è più piccolina, così anche se la carica è più intensa, il raggio è più piccolo, data proprio la relazione che lega R, M e V, scusate, non sono centimetri, ma millimetri, perché è 10 alla meno 3, se non ci sono domande, io passerei all'esercizio, questo qui, sempre la stessa pagina, ma il numero 22, ogni 345, il testo dice una particella ha una carica Q che vale più 12,5 micro coulomb, cioè 12,5 per 10 alla meno 6 coulomb e ha una massa di M 2,80 per 10 alla meno 5 chilogrammi, quindi non si tratta di una particella microscopica e si muove perpendicolarmente a un campo magnetico, quindi la sua velocità è perpendicolare a B, quindi alfa vale 90 gradi e la velocità il testo ci dice no scusate, ci dice che il campo magnetico B ha un'intensità di 1,01 tesla e ci dà il raggio della traiettoria R che vale 21,8 metri ok e ci chiede qual è domanda A qual è la velocità della particella e domanda B qual è il periodo T quindi non confondere T con Tesla questo è il periodo il periodo del moto circolare cioè quanto tempo impiega la particella a percorrere l'intera orbita circolare che fa muovendosi in questo campo allora anche qui è sufficiente per sempre utilizzare la stessa legge di prima fatemela ricopiare usiamo sempre il fatto che la particella essendo in moto in un campo magnetico subisce la la forza di Lorenz e quindi che funge da forza centripeta e quindi vale questa relazione qui l'incognita è V quindi non facciamo altro che sempre semplificare per via destra e sinistra quindi ci ritroviamo con QB che vale mv fratto r da cui ricaviamo che v vale QB per r diviso m ok quindi possiamo usate un secondo ecco esprimere il valore della velocità come la carica quindi 12,5 per 10 alla meno 6 coulomb per il campo magnetico 1,01 tesla per il raggio dell'orbita il raggio dell'orbita circolare 21,8 metri diviso la massa della particella che era 2,8 che era 2,8 per 10 alla meno 5 kg se non ricordo male sì ok quindi di nuovo calcoliamo 12,5 per 1.01 per 21,8 diviso 2.8 che ci dà 98,29 per 10 alla abbiamo meno 6 più 5 quindi meno 1 metri a seconda quindi 9,83 approssimiamo metri a secondo quindi la particella è abbastanza lenta ok questa è una domanda a per la domanda b possiamo sfruttare a il fatto che il moto circolare se vogliamo il periodo dell'orbita sfruttiamo il fatto che nel moto circolare la velocità vale 2 pi greco r la lunghezza della circonferenza diviso il periodo t quindi il periodo orbitale vale 2 pi greco r lunghezza della circonferenza diviso la sua velocità quindi in sostanza 2 pi greco per il raggio dell'orbita che era 21,8 metri diviso la velocità appena trovata 9,83 metri al secondo si ci dà un periodo di circa 13,93 secondi oppure possiamo andare a monte e sempre da questa relazione da quella da cui siamo partiti quindi dall'espressione della forza di Lorenz eccola qui da questa espressione possiamo dire beh che utilizziamo in questa in questa espressione il valore della velocità quindi inseriamo qui dentro il fatto che v vale 2 pi greco r fratto t quindi abbiamo che qb vale m fratto r per 2 pi greco r su t i due raggi si semplificano ok e quindi moltiplico per t e divido per qb il periodo t vale 2 pi greco per la massa diviso carica per campo magnetico di conseguenza possiamo fare un calcolo diretto del tempo quindi 2 pi greco per la massa della particella che è 2,8 per 10 alla meno 5 chilogrammi fratto la sua carica 12,5 per 10 alla meno 6 coulomb e ancora per 1,01 tesla che è il campo magnetico quindi abbiamo 2 per fi greco per 2,8 diviso 12,5 e ancora diviso 1.01 otteniamo qui viene circa 1,39 per 10 alla meno 5 più 6 quindi 10 secondi quindi circa 13,9 secondi che è compatibile con quanto trovato prima ovviamente guai se ne fosse così se volete ecco questa la relazione che dà direttamente il periodo dell'orbita in base alla massa della particella alla carica della particella stessa e al valore del campo magnetico vedete che qua dentro tra l'altro non c'è la velocità ok e non c'è neanche il raggio dell'orbita o sui nostri prefetti potete usare la testata sono indifferente quale delle due sigliette l'appunto di partenza importante è sempre questo il il fatto che in queste condizioni cioè sono cariche in moto in un campo magnetico la la traiettoria è una circonferenza perché perché la forza di Lorenz è sempre perpendicolare alla velocità per come definita e quindi fa svolgere il ruolo di forza centripeta d'accordo e da questa ricavate quello che vi serve che sia la velocità che sia il periodo ovviamente bisogna ricordarsi anche il fatto che nel moto circolare uniforme la velocità è la circonferenza quindi due pi greco r diviso il periodo del moto circolare stesso vediamo ancora ce la facciamo se dovremmo riuscire a farcela propongo questo che mi sembra più interessante eccola qua esercizio che questo mette insieme più aspetti vediamo l'esercizio 26 a pagina 346 e dice un elettrone inizialmente inquiete quindi la velocità iniziale è 0 e abbiamo un elettrone viene accelerato attraverso una differenza di potenziale delta v di 550 volt ed entra in un campo magnetico costante sapendo che l'elettrone segue una traiettoria circolare di raggio 17 centimetri qual è l'intensità del campo magnetico ora qui non ci dicono la velocità quindi facciamo un disegno qui abbiamo il nostro elettrone essenzialmente è fermo qui è il punto 1 diciamo v con 1 anzi punto 0 v 0 vale 0 viene accelerato nel punto 1 da una differenza di potenziale delta v che vale 550 volte ok quindi nel punto 1 essendo accelerato l'elettrone si trova ad avere una velocità v diversa da 0 quindi il potenziale cresce verso sinistra e quindi poi entra in una zona indichiamola in questa zona qui dove c'è un campo magnetico diverso da 0 e qui segue una traiettoria indicata mi fatemi indicare con un grosso circolare di determinato raggio ci danno il valore di r e ci chiedono quanto vale b ma non sappiamo v ok come facciamo a trovare b b beh nella regione all'esterno di quella del campo cioè in questa qui a sinistra dove l'elettrone viene accelerato allora possiamo usare il fatto che l'aumento di energia cinetica è uguale alla diminuzione di energia potenziale ok e quindi se parte da fermo avremo un mezzo della massa dell'elettrone per la sua velocità finale al quadrato vale la carica in questo caso il meno qui davanti col meno della e va via mettiamo più e per la differenza di potenziale attraversata dall'elettrone stesso e quindi avremo che la velocità con cui l'elettrone entra nel campo magnetico vale da qui ricaviamo due volte la carica dell'elettrone per la differenza di potenziale che attraversa diviso la sua massa tutto sotto la radice ok qui abbiamo quindi con questa relazione ci possiamo trovare il valore della velocità con cui l'elettrone penetra nella regione del campo magnetico a questo sfruttiamo questa informazione per per ricavarci il campo magnetico sapendo il raggio dell'orbita al solito abbiamo che q in questo caso e e per v b forza di lorenz vale massa dell'elettrone per velocità dell'elettrone al quadrato diviso il raggio della traiettora circolare semplifichiamo per v e v uguale a m v fratto r ma qui al posto di v possiamo mettere la radice quadrata di due volte e delta v su m e quindi qui abbiamo che b vale 1 fratto r m fratto e per la radice 2 e delta v su m visto che ho m ed è fuori e dentro della radice questo fattore posso portarlo dentro la radice quindi il campo magnetico sarà 1 sul raggio della traiettoria circolare per la radice quadrata di m quadro su e quadro per 2 e delta v su m qui semplifico la m e la e ok e mi rimane 1 su r radice di 2 m delta v fratto e che mi dà un campo inserendo i valori adesso faccio in fretta perché abbiamo poco tempo di circa 46 microtesla 4,6 per 10 alla meno 4 tesi attenzione questo il valore corretto è questo ok non era micro perdone 4,6 per 10 almeno 4 ok sta per concludersi l'ora quindi ci fermiamo qui un po' un po' un po' Grazie.